E buongiorno ragazzi, benvenuti su The Talk About, io sono Saga e in questo video torneremo a parlare di quello che è ormai ufficialmente il mio miglior investimento in assoluto, ovvero Valibus. Dico il miglior investimento in assoluto perché ormai sono quasi due anni che questa piattaforma ci permette di guadagnare dal 2,5 al 3% a settimana come minimo, ne parliamo bene dopo la sigla. Prima di cominciare come sempre ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi aiuteresti davvero tantissimo a far crescere il canale e se non l'avessi già fatto anche di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella così verrà aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Che cos'è Valibus? È una piattaforma che ci permette di comprare dei pacchetti e con questi pacchetti, dopo vi farò vedere come funziona, possiamo avere un guadagno di appunto il 2,5% fino a fare 1 per 3 del pacchetto o fino a esaurirlo nel tempo. Attenzione perché a differenza delle piattaforme SCAM dove tu il pacchetto lo compri ti dicono durerà fino al tutta roba fitizia perché tanto la piattaforma chiude prima di quando poi vada a finire il pacchetto. Con Valibus questo non è successo quindi io ho terminato parecchi pacchetti, ne ho comprati altri, ne ho riterminati altri, dopo vi faccio vedere anche questo. Quindi bisogna sempre tenere sott'occhio quando ci scaldano i pacchetti se no chiaramente smettiamo di guadagnare. Noi guadagniamo appunto il 2,5% a settimana del valore del pacchetto ma in più abbiamo una rete binaria quindi praticamente quando ci iscriviamo finiamo sotto a una delle due gambe della persona con cui andiamo a iscriverci e la rete andrà avanti e praticamente ogni settimana noi prenderemo il 10% della gamba inferiore. Quindi questo ovviamente sommato già al 2,5% settimanale. In più abbiamo anche un bonus referral quindi per ogni invitato che noi facciamo entrare prenderemo una percentuale dei pacchetti che andrà acquistare. Insomma si parte dal 2,5% a settimana ma si può salire anche parecchio. Se non facciamo rete, se non facciamo nulla chiaramente prendiamo solo il 2,5% a settimana. Ma perché rifaccio questo video dopo tutto questo tempo? Perché Valibus aveva una roadmap, se volete vi lascio qua sotto i video di iscrizione, sono vecchi quindi magari dateci un occhio, è chiaro che adesso è cambiato un po' tutto. Infatti hanno cambiato l'interfaccia, stanno rispettando la roadmap, siamo quasi a due anni di utilizzo e secondo me era giusto farvi un nuovo video anche per farvi vedere proprio come l'interfaccia nuova. In modo che se qualcuno vuole iscriversi e ancora non l'ha fatto, magari mi guarda un video vecchio con l'interfaccia vecchia e non si trova poi in quella nuova. Le funzioni sono praticamente le stesse, cambia solo un po' tutto graficamente, vi faccio appunto vedere tutto quanto nel dettaglio. Vi faccio vedere come ottimizzare i guadagni, come comprare i pacchetti, come andare a prelevare i soldi, come fare più soldi della rete. L'unica cosa su cui dovete stare attenti davvero è il vostro pacchetto, perché se per esempio voi comprate un pacchetto 200 potete fare massimo 1x3, ma i soldi che vi arrivano dalle reti vengono comunque estratti dai pacchetti. Quindi fate attenzione perché se finiscono i pacchetti e la vostra rete si espande non ricevete più nulla, quindi mi raccomando lasciate dei pacchetti sempre attivi. Adesso ci spostiamo sul computer, vi faccio vedere tutti i passaggi e vi presento anche la nuova interfaccia. Chiaramente se sei interessato a questo progetto io ti direi lascia perdere a sto punto i video vecchi, anche se ti lascio qua in descrizione per curiosità se vuoi vederteli, ma segui questo video qua in modo che potrai vedere come fare tutto quanto con l'interfaccia nuova. A sto punto seguimi. Ed eccoci qua davanti alla schermata principale di Validus. Vi faccio subito vedere una cosa al volo. Sotto Active Membership vedete quanto avete dei pacchetti attivi. Ad esempio io ho 5050 punti, vuol dire 5050 dollari in questo momento attivi nei pacchetti. Dovete tenere chiaramente sempre questo numero attivo perché è questo che ci andrà a generare le entrate che adesso vi faccio vedere. Come fare per comprare questi pacchetti? Si va sul tastino Membership ed eccole qua. Si parte da 50 dollari, 100, 250, 500, 1000, 3000, 5000, 10.000. Queste partnership ci danno fino a 1x3 del pacchetto, quindi se compro quella da 1000 posso fare fino a 3000 oppure 60 settimane. Infatti vedete qua mi dice che uno dei miei pacchetti da 1000 è alla 49esima settimana su 60. Una volta arrivata a 60 chiaramente il pacchetto finisce. Posso comprare quanti pacchetti voglio, posso accumularne, posso usare il profitto che faccio con Validus per comprare altri pacchetti. Possiamo fare un po' cosa vogliamo. Come fare intanto per ricaricare? Quindi mettiamo che io voglio usare la partnership da 1000. Vado su Top Up, questa scritta qua sopra, premo, scelgo quanto ricaricare, quindi in questo caso ce l'ho già scritto qua, posso scriverlo seno a mano, faccio 1000. E poi premo su Coin Payment. Mi apre una pagina, seleziono come voglio fare il deposito, io lo faccio sempre in USDT sul Rete Tron perché è quella che costa meno. Quindi premo qua, metto una mail e faccio completa checkout. A questo punto Coin Payment mi genererà un indirizzo di deposito, eccolo qua, e io farò 1000€ di deposito su questo indirizzo qua. Fatto questo mi ritroverò i soldi sopra Validus, quindi tornerò su Validus e avrò i miei 1000€ pronti da spendere. Vado sulla partnership e premo il tastino di acquisto. Non lo posso fare io chiaramente perché il deposito non l'ho fatto, se no si accenderebbe questo tasto qua. Chiaramente se deposito 1000 si accendono tutti questi tasti qua fino a 1000, ok? Quindi li spendete e via. Il pacchetto qua dice che fate fino al 3% a settimana, io vi dico dopo due anni di esperienza più o meno siamo sul 2,5, viaggia sul 2,5, 2,7, l'intorno. Che già è ottimo così. Ma non finisce qua, non finisce qua perché, torno sulla dashboard, Validus funziona su due gambe. Praticamente quando voi vi iscrivete, ad esempio se vi iscrivete sotto il mio referral che vi lascio qua sotto in descrizione, potete entrare o nella mia gamba di sinistra o nella mia gamba di destra. Io a sinistra ciò 181 persone per un volume di 38.900 dollari, a destra ciò 262 persone per un volume di 42.100 dollari. Quindi nel momento in cui vi iscrivete con me, entrate in una delle due gambe. Vi ritroverete quindi una gamba carica, mentre l'altra gamba sarà scarica perché sarete da soli e dovrete pensare voi a fare rete se vorrete farlo. Come funzionano le gambe? Praticamente ogni giovedì noi prendiamo il 10% della gamba più piccola della settimana. Ora si è appena resettata, vedete che qua ho 4.100, qua ne avevo meno, non mi ricordo quanto. Questa gamba è stata pagata. Mi viene pagato il 10% sul mio wallet e poi riparte la settimana. Il giovedì dopo succederà di nuovo la stessa cosa. Validus guarderà questi due numeri, il più piccolo andrà a resettarlo e mi darà il 10%. Questo chiaramente è in più al 2.5% che già prendiamo dei pacchetti. Tra l'altro mi ero dimenticato di dirvelo, il 2.5% dei pacchetti viene pagato il lunedì invece. Come fare a decidere dove mettere la gente quando la fate iscrivere col vostro referral? Allora intanto il vostro referral lo trovate qua. Eccolo qua. Questo è il referral che voi dovete dare a chi volete far iscrivere sotto di voi. E qua semplicemente premete sinistra o destra. Io adesso sono messo su sinistra, quindi se qualcuno si iscrive in questo momento va nella mia gamba di sinistra. Se voglio ribilanciare premerò destra e lascerò un po' di giorni su destra per far sì che i nuovi iscritti andranno sulla destra e così via. Questa cosa è importantissima perché credetemi che se siete capaci di fare un po' di rete con questa piattaforma potete fare davvero tanto. In più prenderete anche il 10% del pacchetto acquistato di chi invitate. Quindi altro guadagno in più. Insomma con questi tre guadagni si può davvero fare tanto a settimana con questa piattaforma. Ripeto sono quasi due anni che la uso. Ho fatto un primo video di presentazione, ho fatto un video di aggiornamento, ho fatto il video di sei mesi, ho fatto il video di un anno di utilizzo. Adesso ho rifatto questo video proprio perché ho cambiato tutta l'interfaccia. Quindi mi sembrava giusto rifarlo. Arriviamo al prelievo. Come si fa a prelevare? Dunque ci sono diversi portafogli. Se io primo su wallet vedete che ci sono diversi portafogli. C'è l'active wallet, il passive wallet, reward e il main wallet. Allora reward sono le nostre ricompense che riceviamo dai pacchetti. Quindi ogni lunedì il mio pacchetto mi pagherà e la mia ricompensa andrà sotto reward. Active wallet invece sono i soldi che noi riceviamo ogni giovedì dalle due gambe più il 10% che riceviamo dai pacchetti. Ma attenzione perché parte di questo 10% andrà nel passive wallet. Come funziona il passive wallet? Semplicemente se ne sta qua e a ogni primo del mese viene pagato il 10% del passive wallet passerà nel active wallet. Quindi insomma con questo non ci potete fare niente. Abbiamo poi il main wallet che è quello che utilizzeremo per comprare altri pacchetti o semplicemente per prelevare. Quindi se volessi comprare un altro pacchetto o se volessi prelevare che cosa devo fare? Ad esempio vado sul reward wallet, premo la freccina in giù. Scrivo quanto voglio prelevare, ad esempio 170. Non pago commissioni per spostare da un wallet all'altro. Mi chiede la mia transition password che è quella che andremo a settare quando ci scriveremo su Validus. Più il Google Authenticator che anche questo lo setteremo quando ci scriveremo su Validus. Premendo il tasto trasferisci queste reward si trasferiranno sul main wallet. Avendo poi 171 dollari sul main wallet cosa vuol dire? Che se io dovessi andare sulla membership si accenderebbe la prima e la seconda membership perché avendo 170 io posso comprare una 50 e una 100. Potrei fare compra e compra e comprarmele tutte e due oppure potrei prelevare. Come fare per prelevare? Sempre su wallet. Andiamo su main wallet. Qua dobbiamo mettere come vogliamo prelevare in bitcoin. Quindi si preleva sempre in bitcoin. Mettiamo quanto vogliamo prelevare. Paghiamo una commissione mi sembra del 5%. Non vorrei sbagliarmi. Mettiamo il nostro indirizzo bitcoin in questa stringa qua. L'OTP che ci verrà inviato tramite mail. Il codice Authenticator e la nostra password appunto settata durante la registrazione. Vedete che quando preleviamo in più ci chiede anche l'OTP quando facciamo il prelievo vero e proprio che è appunto una password mandata tramite mail. Tutto questo per la sicurezza. Quindi tra OTP e Google Authenticator questo portale è super 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 sicuro. Se vogliamo vedere a che punto è la nostra rete possiamo fare network. E qua vediamo semplicemente il nostro ramo. Quindi possiamo espanderlo guardare un po' che abbiamo sotto eccetera insomma. C'è anche un sistema di reward. Più saliamo con la rete più otteniamo ricompense. Io sono arrivato a questo rank qua lo zaffiro. Le ricompense della reward vengono assolutamente pagate. Io ho ricevuto sempre le ricompense delle reward. E quindi io non posso che parlare stra bene di questo portale. Mi sono trovato davvero molto bene. Di tutti i portali che ho provato questo sicuramente è stato il migliore. È stato il migliore investimento in assoluto che ho fatto in generale. Perché comunque un 2.5% settimana di pacchetti più i vari bonus più le gambe eccetera per quasi due anni rendetevi conto voi. È proprio una grandissima cosa. Chiaramente questi video non sono mai consigli finanziari assolutamente. È comunque un portale ad altissimo rischio. Nonostante sia quasi due anni che esiste è comunque ad altissimo rischio. È importante mettere su questi portali i soli soldi che si disposti a perdere perché non si sa mai. Per me ora è facile chiaramente utilizzarlo perché ho avuto già una grande rendita. Quindi tutto quello che faccio ora è tutto profitto. Come gioco ora, come compro ancora pacchetti ora è tutto profitto. Quindi è facilissimo. È chiaro che chi entra adesso magari qualche problemino in più se lo fa ed è giusto che se lo faccia. Io comunque sono stra soddisfatto di questa piattaforma. Ripeto ti lascio qua sotto il link per iscriverti e ti lascio qua sotto anche tutti i link dei video vecchi. Così se vuoi andarti a recuperare per curiosità, se vuoi vedere com'è cambiato e com'è cresciuto il progetto, puoi avere chiaramente una bella panoramica su tutto quanto. Io direi che per questo video è tutto. Io ti ringrazio di essere arrivato fin qua. Se non l'avessi già fatto ti chiedo ancora di lasciare un bel like su questo video. E se non l'avessi già fatto ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Grazie ancora e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.